e passiamo subito al reparto dolci, si comincia a bere, hanno dei dolci molto molto golosi sopra ci si possono mettere anche i vari bonboni qui si prende il piatto una volta riservuto un talluccino all'ingresso ci sono vari piatti, questo è il reparto insalate qui ci sono i secondi e i primi, per esempio questa sera ho mangiato un bel baccalà poi ci sono molti legumi, sono molto impaggiori vedete? mentre qui c'è il reparto sushi qui c'è il rasco con i vari tagli di pane ola tutto fatto al grill questa sera noi abbiamo stato per il bischio c'è la carne che ci viene rimetta direttamente sulla piatta le altre verdure e qui è quello che non si dovrebbe mangiare, le fritture buonasera a tutti eccoci al mitico chiasso dove fare un pieno di vitamine stanno ancora assaporando i vari frutti oggi ha fatto un bel mix questo è il proprietario guardate che bella frutta in espressione che c'è hanno anche le varie torte a questo questo è il proprietario è quello che vi so sempre ho sempre sembrano molti questo qui Grazie.